Bene, ancora ben arrivati a tutti. Abbiamo iniziato questo momento di convegno e incontro con l'invocazione allo Spirito Santo. Chiediamo veramente allo Spirito di illuminare i lavori di questa mattina. Giungiamo questa mattina a conclusione di un percorso che abbiamo vissuto in questi mesi, in queste settimane, riflettendo su catechesi e disabilità. Siamo stati aiutati abbondantemente, siamo stati stimolati a riflettere su una tematica che deve riguardare un po' tutti quanti noi. Non possiamo rimanere insensibili, indifferenti. Soprattutto dopo questo percorso qualche cosa si deve muovere dentro di noi. Non possiamo continuare, lo abbiamo detto in queste settimane, non possiamo continuare a dire che cosa dobbiamo fare, come possiamo fare. Ecco, l'unione, il lavoro che stiamo facendo come diocesi ci porta a dire che dobbiamo lavorare insieme, che dobbiamo dialogare, dobbiamo confrontarci e dobbiamo mettere in campo tutti quegli strumenti e quelle potenzialità che abbiamo a disposizione. Quindi grazie a voi che avete risposto a questo invito, a questa chiamata e grazie soprattutto per il lavoro che continueremo a fare ancora dopo questo percorso di formazione vissuto insieme. Ecco, iniziamo i lavori. Sapete, stamattina presenteremo, Don Andrea ci presenterà il Vade Mecum, che è questo strumento che ci aiuterà non ad avere tutte le risposte, lo abbiamo detto dall'inizio, non abbiamo delle risposte, non abbiamo delle soluzioni, ma almeno diventerà uno strumento che ci aiuterà a entrare con il cuore, con la mente, con il nostro essere, in alcune dinamiche che incontriamo quotidianamente nelle nostre realtà parrocchiali. E quindi Don Andrea ci dirà qualche cosa, soprattutto del lavoro che si sta portando avanti già da un po' di tempo. Ma permettetemi, prima di dare subito la parola a coloro che ci saluteranno e che presenterò a breve, di dare un saluto speciale al nostro Vescovo, a Monsignor Salera, come sempre presente nelle diverse iniziative dell'Ufficio della Catechesi. Voi sapete, Don Daniele è Vescovo ausiliare del settore Nord, non ha bisogno di presentazione, ma è anche il Vescovo delegato dell'ambito della formazione cristiana, quindi il Vescovo che guida e sostiene il cammino che l'Ufficio per la Catechesi fa all'interno della nostra diocesi. Ed lo ringrazio veramente a nome dell'Ufficio perché ancora una volta si è reso disponibile anche per questa mattina per portarci il suo contributo e per essere qui in mezzo a noi. Suor Veronica, ormai abbiamo imparato a conoscerla, riesce a fare contemporaneamente più cose, riesce ad essere presente in più ambiti. Ah, eccola, è tornata, non l'avevo vista, dico sta medicando una signora che è caduta, quindi. Però ecco, do subito la parola a Suor Veronica. Suor Veronica non ha bisogno di presentazione. Sappiamo bene la responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità della CEI è l'anima del nostro percorso perché ci ha aiutato a riflettere abbondantemente in queste settimane e anche a lei, nonostante i suoi tanti impegni, la ringrazio perché non solo ha lavorato abbondantemente con noi per la realizzazione di questo Vademecum, ma anche perché questa mattina ci onora della sua presenza. Quindi do subito a lei la parola. Grazie. Sono io invece che ringrazio voi, uno perché è la mia diocesi, quindi sono a casa, insomma, anch'io faccio un percorso di fede, di anuini, insomma, veramente grazie. Ringrazio il Vescovo che lo conosco da anni, quindi anche la sua sensibilità come formatore di seminario, insomma, in alcune cose, ecco, veramente c'è sempre stata. Don Andrea, veramente per il prezioso contributo, esperienza, lavoro, per aver creduto. Don Enzo, perché poi alla fine veramente è stato quello che dietro le quinte ha architettato, ha tessuto le fila, ha tenuto insieme i vari pezzi. E grazie a voi, perché alla fine veramente il grazie più grande è a voi che avete scelto di dire no ad altro e di essere presenti oggi. Vi lascio tre parole, un po' pensavo tra i vari viaggi e ho detto ma qual è la parola forse che, insomma, possiamo prendere. Uno mi viene in mente quando nel libro di Samuel dice sono qui tutti i tuoi figli. Allora veramente la sfida grande oggi è se uno in chiesa oggi andrà a cercare, come disse Papa Francesco, forse all'inizio, eccellenza, all'inizio forse del mandato, quando fece il primo incontro alla diocesi di Roma, che disse ormai è inversa questa parabola, 99 sono fuori e uno è dentro. Allora ora la sfida grande è dire sono qui tutti i tuoi figli. Quando saremo nelle nostre parrocchie, dire come mai non ci sono? Eppure ecco c'è lo scivolo, eppure c'è altro. Allora veramente sentire questo mandato bello che la Chiesa fa, scegli a noi proprio perché veramente siamo fratelli, ecco, quindi veramente questa sfida di andare in cerca, ecco, di uscire. La seconda sfida è il salmotto, stamattina nelle lodi c'era la consegna del salmotto, insomma c'era il salmotto, dice ci hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato e altro. Allora ricordarci che l'accompagnamento, l'essere prossimi è un cammino bidirezionale in cui io accompagno loro, ma loro accompagnano la mia vita, quindi il nostro compito non è solo negli strumenti che servono, perché servono, ma è nel renderci conto che davanti a noi abbiamo una, cioè persona che ha un corpo, un'anime, un spirito che desidera la, cioè santità, desidera l'incontro con il Signore. Allora veramente ricordarci ecco di questa sfida grande. E il terzo mi viene in mente gli atti, ecco la sfida che credo che le comunità hanno oggi, quando c'erano, mettevano tutto in, cioè comune, nessuno veniva perso, nessuno di loro si perdeva. Papa Benedetto, un grande papa come abbiamo anche detto, che aveva anche il cugino con la sindrome di Down, a un certo punto lui non solo ha scritto in maniera chiara nel suo, cioè Magistero, ma la Chiesa cresce per attrazione. Allora la Chiesa cresce perché le comunità cristiane piano piano recuperano questa cosa bella, veramente questo essere proprio Chiesa. Allora veramente vi rilancio queste tre sfide che poi valgono per tutti, quindi veramente grazie. Ora vi è stato dato il kit degli attrezzi, non è un abito pronto, però almeno abbiamo la stessa stoffa. Poi ognuno vive in parrocchie diverse, in territori diversi, in luoghi diversi. Ognuno cucira l'abito in base alla sua parrocchia, però come diceva anche prima Don Enzo, ecco oggi abbiamo, a parte che ci conosciamo, possiamo far rete. Ecco quello che vi dicevo nell'ultimo incontro, l'ufficio catechistico dovrebbe un po' essere questo luogo dove si tessono le trame, dove un po' si raccolgono le buone prassi, le cose che metterete voi in atto, ecco veramente fate, cioè usateli come punto di riferimento, non solo per risolvere problemi ma anche per offrire le cose che farete voi. Allora veramente la sfida che ci diede Papa Francesco nel 2016 o tutti o nessuno. Allora una chiesa credo che più che mai oggi debba essere un luogo dove tutti la sentono casa, dove sia veramente luogo per tutti. Vi ringrazio e ringrazio l'ufficio catechistico, anche chi dietro le quinte ha reso sempre possibili questi incontri, grazie ai relatori che ci sono stati ma soprattutto grazie a voi che avete scelto di dire sì e di dire guarda voglio veramente essere quella chiesa della prossimità dove non perde nessuno. Grazie tante e buona continuazione perché il lavoro inizia. Ecco ora do la parola a Don Luigi. Suor Veronica è responsabile nazionale della CEI, Don Luigi è il nostro referente diocesano per la pastorale delle persone con disabilità. Abbiamo conosciuto Don Luigi al primo incontro con un po' di fatica a causa dei collegamenti però ecco è sempre una gioia. Se ricordate noi abbiamo vissuto un momento di riflessione l'anno scorso nella sua parrocchia quindi questa parrocchia che ormai abbiamo imparato a conoscere perché è un punto di riferimento per la pastorale delle persone con disabilità all'interno della nostra diocesi ma non deve essere un'eccezione lo abbiamo detto, deve essere anzi un esempio per far sì che tutte le nostre realtà parrocchiali possano essere quella casa bella, accogliente così come lo è la parrocchia che Don Luigi ci ha presentato. Ecco dando la parola a Don Luigi Del Rico ringrazio anche Fabian che questa mattina ci aiuta con il linguaggio dei segni. È prezioso il suo servizio perché stiamo facendo le registrazioni e quindi capite bene da casa potranno poi domani comprendere magari tutti quello che ci stiamo dicendo. Do subito la parola a Don Luigi. Ecco la prima cosa che mi viene in mente tanto buongiorno a tutti è che il luogo è disabile nel senso che non è abilitato per tutti per arrivare qua su, per uno che ha un piede che non funziona più. Non ho mai capito se è per la coscienza, la vocazione o per la mia disabilità che mi hanno scelto per fare questo servizio. Però sicuramente quello che non ha traccia di disabilità credo che sia la vostra consapevolezza che siete la possibilità perché cambi il modo di pensare. È in corso un cambiamento della mentalità, una conversione che è iniziato un po' a tutti i livelli anche della società civile e la Chiesa diciamo fa un po' da apripista grazie a Papa Francesco che ha parlato chiaramente e ha innescato questo cambiamento profondo che deve coinvolgere tutti perché ci aiuta anche a comprendere tutte le difficoltà di una società che ha veramente bisogno di una buona notizia del Vangelo, di Gesù, che non è oppositiva per usare un termine che a volte si usa per le persone con disabilità nei confronti del Vangelo ma che si sente esclusa, si sente lontana, non considerata. Anche nella mia parrocchia ci sono tanti problemi come in tutte le parrocchie di Roma. Però ci sono dei segni che siete voi, tanti, anche quelli per colpa mia perché non sono tecnologico quindi non sono riuscito a far funzionare bene questi strumenti particolari. Insomma, sono troppo avanti negli anni per conoscerli bene. Mi faccio aiutare da alcuni ragazzini. Non siamo accorti. Eh, lo so, lo so. Anche io ho i miei limiti forti. Però vorrei dire due cose che mi hanno colpito oggi. La prima era appunto la vostra presenza e credo la potenzialità di cui non sempre siamo coscienti. I catechisti a volte pensano di essere un appendice, una realtà marginale, non è affatto vero. Sono quelli che cambiano la mentalità perché lavorano all'inizio della vita e poi in realtà la accompagnano sempre. Ed è veramente una grande energia, una grande fonte di cambiamento. Ma oggi due cose volevo soltanto dirvi. Uno che è venuto a mancare una persona che ho conosciuto, Monsignor Claudiano Strazzari, che credo sia stato uno dei più grandi catechisti. Io non sono neocatecumenale, quindi non faccio questioni di parte, ma l'ho conosciuto come uno dei migliori catechisti di Roma. Ha formato tanti sacerdoti e ne ho conosciuti così tanti, pur appunto non facendo parte di questa realtà, che avevano nel DNA spirituale, se si può dire così, una non esclusione di alcune persone, delle persone. Le persone con disabilità, per esempio, fanno parte delle comunità, vivono con le loro famiglie e fanno lo stesso cammino che fanno gli altri. Era bello vederlo. Quindi penso sia importante ricordarlo. Mentre abbiamo pregato pensavo a questa vita così capace di influire una persona sola. Può cambiare tanto nella realtà. E questa mattina mi ha chiamato una signora. Il 12 aprile vengono premiate in Parlamento le persone, le donne, che si sono distinte maggiormente nell'attenzione nei confronti degli altri. Hanno scelto una signora che conosco, si chiama Mariella Tarquini, perché mamma di un ragazzo disabile, perché ha fatto tanto per aiutare gli altri e aiuta anche noi nella catechesi. E l'ultima cosa, catechisti, voi siete proprio quelli in prima linea, no? Ma è anche bello, voglio dire, c'è anche una... la spiritualità è bella, è forte, è un'avventura che vale la pena di vivere. Forse una delle sfide più grandi è che in realtà siamo tutti catechisti, sempre, finché respiriamo. Anche l'ultimo gesto della nostra vita, la nostra esistenza può essere una testimonianza che aiuta altri a crescere. È un cammino. Non dura un periodo limitato. Dobbiamo per forza creare dei periodi, per ovvie ragioni, ma non c'è un termine alla crescita nella relazione con il Signore Gesù. Ho apprezzato tanto questo strumento e mi sembra molto bello che strutturalmente cominci con i pregiudizi che esistono in ciascuno di noi, che vanno sempre messi in discussione. Quindi veramente mi auguro che diventi proprio come sono le nostre realtà parrocchiali, capillare, che possa essere distribuito anche alle famiglie, alle persone, che possa girare come un'occasione per mettere in discussione quella mentalità che il Vangelo di Marco all'inizio ci dice, e all'inizio della Quaresima, ci dice di realizzare un cambiamento profondo della mentalità. Grazie veramente a tutti, grazie a Don Enzo, a Sua Eccellenza e a Andrea, a tutti quelli che hanno contribuito a questo strumento. Ecco, dopo i saluti iniziali do subito la parola a Don Andrea, il nostro direttore, che ci presenterà il Vademecu. Buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, per chi volesse averlo sott'occhio, il Vademecu si trova sul sito della Diocesi di Roma, nella pagina dell'ufficio catechistico. Come ci arrivate? Se su un motore di ricerca mettete Diocesi di Roma, ufficio catechistico, vi esce quella pagina, il post che trovate in prima pagina, c'è il link per il Vademecu, che è un file PDF in formato A4. Scusate le note tecniche, ma per dire che è il formato normale, quello che si può sia leggere al computer tranquillamente, forse non molto bene sul telefonino, però almeno ce lo potete avere davanti. Ma comunque vi faccio scorrere le pagine adesso qui sul... Dunque, comincerei da un minimo di storia. Allora, questa è una bozza di Vademecu che non è la prima bozza su cui lavoriamo, ma è la seconda, perché nel 2019 avevamo già lavorato su una bozza di Vademecu insieme con Don Luigi e poi avevamo fatto un incontro presentando questa bozza di Vademecu dicendo va bene, allora poi all'incontro dell'anno prossimo ci aggiustiamo, vediamo, continuiamo a lavorare su questa cosa. Poi è arrivato il Covid a inizio 2020, quindi si è un po' sospeso questo lavoro e abbiamo deciso di riprenderlo per non lasciare a metà la cosa. Quindi chi è che ha contribuito a questo strumento? Allora, ovviamente, a parte Don Enzo che ha coordinato il lavoro, Don Luigi che aveva già lavorato per il Vademecu, quello del 19, che poi è finito in questo qui, Sor Veronica certamente, e poi Don Gianni Carozza che ha curato la parte biblica, poi alcune persone che sentirete poi dopo, Valeria Sanzoni, Alberto Belloni e Antonella Ciancetta, Angelo Trecca e Maria Scicchitano. E che cos'è questo Vademecu? È un documento diviso in alcuni capitoli, vi leggo i titoli. Allora ci sono i principi generali, poi i pregiudizi da superare, le indicazioni per una comunità inclusiva, le indicazioni per una relazionalità inclusiva, qualche nota sui disturbi evolutivi specifici e le disabilità. Che cos'è questo strumento? Allora non è un Vademecum nel senso che ti dice il come si fa, ma ti dice il principio generale, perché è uno strumento di autoformazione dei catechisti. Abbiamo come ufficio due Vademecum, il Vademecum dell'iniziazione cristiana, che è il presupposto per la metodologia generale della catechesi, e questo Vademecum su catechesi e disabilità. Entrambi sono degli strumenti di autoformazione, cioè quale sarebbe l'idea? Che i catechisti di una parrocchia, una volta vogliono fare un po' di formazione fra di loro, con i sacerdoti o fra di loro come sia, e si leggono e parlano, si leggono il Vademecum, una parte del Vademecum, quello che è, e ne parlano. Perché il punto è, come abbiamo detto più volte, ma lo ripeto, il punto è creare una mentalità. E i catechisti, come diceva Don Luigi, sono fondamentali da questo punto di vista, cioè sono la scintilla che può far accendere il fuoco. E come è una responsabilità di formarsi per formare gli altri, di avere chiari alcuni principi per stimolare la recezione di questi principi in tutta la comunità cristiana. Lo sappiamo bene che la parrocchia è una comunità cristiana, come diciamo sempre, però che ha diversi gradi di appartenenza e diversi gradi di partecipazione. Il nucleo più vivo, più attivo della parrocchia, in gran parte è costituito dai catechisti. Quindi capite che è determinante che i catechisti siano decisi a formarsi su questo e a aiutare la formazione degli altri. Quindi poi il mandato che ci diamo è quello di usare questo strumento, che è semplicemente un promemoria di alcune cose, usare questo strumento come strumento di autoformazione. Dunque, partiamo dall'inizio. Anzitutto, come vi dicevo, questo strumento presuppone il vademecum per i catechisti sull'iniziazione cristiana, perché chiaramente qui non è che ci siamo messi a ridire tutti i principi della catechesi dell'iniziazione cristiana. Però è bene averli a mente, per non andare in modo disordinato. Cioè, per esempio, il fatto che la catechesi dell'iniziazione cristiana, cioè quello che a Roma chiamiamo il catechismo della comunione, il catechismo della cresima, è anzitutto la proposta dell'esperienza della vita cristiana. Quindi non è che io catechista ti parlo di Gesù, ti parlo della parola di Dio, ti parlo della preghiera, ti parlo della messa, ti parlo della vita cristiana, no, ma io ti invito a fare con me un'esperienza di ascolto della parola, un'esperienza di celebrazione liturgica, un'esperienza di vita comunitaria, un'esperienza di preghiera. Questo è fondamentale per cercare di uscire da quello che è invece un'impostazione un po' più scolastica, di cui la catechesi ancora un po' risente. E quindi risente, fra l'altro, mi ha impressionato che sono stato a fare formazione qualche giorno fa all'Urbaniana, a fare formazione per i sacerdoti, che per gli ordinandi, coloro che stanno per diventare sacerdoti, stanno per tornare nelle diocesi e allora ricevono un po' una formazione generale, anche di tipo pastorale. Quando ci hanno invitato, sono andato con Sor Rosaria, noi abbiamo detto, beh, però noi vi possiamo parlare di come si fa la catechesi a Roma, o come vorremmo fare la catechesi a Roma, poi non sappiamo in ogni paese del mondo quali sono le questioni, no? Però poi ascoltando un po' le persone, ascoltando questi diaconi o accoliti che stanno per diventare sacerdoti, è stato bello pensare che su questo eravamo tutti d'accordo che fosse la prima esigenza. La questione di offrire un'esperienza della vita cristiana e non parlare della vita cristiana, come se io ti dovessi spiegare tutto, come se fosse un corso. Qualcuno ci raccontava che in alcune zone del mondo la catechesi ha ancora delle tradizioni che qui non ci sono più ormai da qualche decennio, per esempio l'esame prima di fare la prima comunione. E pensate che anche qui c'era questa cosa, perché era proprio un'ottica dell'imparare alcune cose, cioè la catechesi serviva per imparare alcune cose, perché tanto poi l'esperienza della vita cristiana l'avevi dal contesto in cui vivevi. Invece oggi sappiamo che la catechesi è l'occasione dell'iniziazione cristiana, che in qualche modo dobbiamo fare un po' tutto, cioè dobbiamo offrire tutta la vita cristiana e far fare esperienza. Bene, questo è solo per dire, le note che qui abbiamo sulla disabilità presuppongono tutto quello, se no appunto si ricomincia da capo ogni volta. Allora, la prima parte è una riflessione sulla Bibbia e il mistero della sofferenza. Che cosa dice la Sacra Scrittura sul mistero della sofferenza? Che ci sembrava un inizio utile perché l'approccio spirituale di fede è quello che ci contraddistingue. Noi non stiamo parlando di un problema da risolvere o semplicemente come facciamo a integrare le persone con disabilità nelle nostre... non è una questione né sociologica né pratica, per noi è una questione di fede, di essere veramente cristiani e di vivere veramente la comunità cristiana sapendo interpretare la realtà con gli occhi della fede. E quindi c'è questa riflessione sul mistero della sofferenza nella Bibbia. E poi una parte di principi generali. Molto semplicemente prendiamo questi principi generali dal direttorio per la catechesi, che è l'ultimo documento ufficiale, grande, che la Chiesa ha pubblicato, la Chiesa universale ha pubblicato sul tema della catechesi. È del 2020. Allora ci sono alcuni numeri, alcuni paragrafi del direttorio per la catechesi che parlano della catechesi e della disabilità e quindi con molta facilità prendiamo da qui i principi generali. Quindi quali sono questi principi generali? Vi elenco i titoletti semplicemente. Il fatto che tutte le persone, le persone di tutti i tipi, di qualsiasi estrazione, di qualsiasi condizione di vita vivano, anche se vivono in una condizione di disabilità oppure anche se hanno dei disturbi specifici, sono chiamati alla fede. Questo ci sembra una banalità enorme, però è importante dirlo invece perché per un pregiudizio che è molto forte pensiamo che la chiamata alla fede dipenda dalla capacità della persona o dalla condizione in cui vive la persona. Questo non ce l'abbiamo solo nel caso delle persone con disabilità ma di tutti quanti. A volte per esempio anche nei confronti del gigantesco fenomeno della povertà, della povertà economica e sociale, a volte si è avuto un atteggiamento per cui bisogna assistere, bisogna risolvere il problema della povertà. Invece per noi chiesa la questione è che tutti sono chiamati alla fede, quindi noi annunciamo il Vangelo anzitutto a tutti quanti, facendo anche tutto il resto, tutto ciò che serve, ma anzitutto c'è una chiamata alla fede universale. E questo è fondamentale per noi, che ci sia quindi una chiamata alla fede che presuppone una educabilità alla fede, cioè che tutti possono ricevere l'annuncio della fede e rispondere ciascuno secondo le sue possibilità all'annuncio della fede. Perché la questione della fede non è una questione anzitutto cognitiva, cioè non è una questione di conoscenza e per cui non esclude una persona che, mettiamo caso, cognitivamente ha una difficoltà. No. Un altro principio che il direttorio per la catechesi presenta è quello della soggettività attiva, cioè dice c'è un grande processo in corso, si tratta non solo di accogliere, non solo di integrare, ma anche di valorizzare, di far partecipare, di dare un ruolo, una voce. Mi ricordo per esempio, bellissima, qualche anno fa ho sentito una testimonianza di una persona con disabilità che fa la catechista e che aveva, cioè ce ne sono tante, anche in rete ne trovate tante, di testimonianze molto belle da questo punto di vista. Ma questa ragazza aveva vissuto l'esperienza in parrocchia di fede e luce, fa parte del movimento di fede e luce, un momento molto bello, una realtà molto bella di amicizia e attraverso quello pian piano aveva sentito che il grande annuncio di Cristo per lei non era solamente Dio ti ama, Dio è con te, Dio è presente nella tua vita, ma era anche che Dio ti chiama a fare anche tu la catechista. E quindi con grande gioia faceva la catechista, chiaramente nella sua condizione vivendo con alcune difficoltà pratiche, ma che affrontava con grande allegria, devo dire mi era molto piaciuta e mi era molto consolato questa testimonianza. Quindi la soggettività attiva di tutti quanti, anche delle persone con disabilità. Questa sappiamo è una sfida che non riguarda solo le persone con disabilità, riguarda tutti quanti nella chiesa. Dunque, poi se si riaccende qui lo schermo poi va davanti, però insomma voi immaginatevi le slide che scorrono. Allora, un'altra cosa importante che dice il direttorio è che le persone con disabilità possono realizzare la dimensione alta della fede. La dimensione alta della fede. Quindi non solamente il minimo sindacale, ma la dimensione alta. Cioè tutti siamo chiamati alla santità, tutti possiamo diventare santi, ciascuno nella propria condizione di vita. Quindi quali sono i pregiudizi da superare? Proviamo a focalizzare questi pregiudizi. Magari anche su questo è utile lavorare nelle comunità. Quando farete un po' di autoformazione su questo ai pregiudizi, diamogli un po' di spazio perché a volte ci è più facile ragionare sul negativo che sul positivo. Più che dire le cose dovrebbero stare così, cosa c'è che non va? Cosa è che ci rendiamo conto che non va? Dunque, abbiamo evidenziato tre principali pregiudizi che in qualche modo poi a cascata fanno venire fuori altri pregiudizi. Il primo è il pregiudizio cognitivo, quello che vi dicevo prima, cioè il fatto di considerare la questione della fede, dell'incontro con Gesù, anzitutto una questione cognitiva, cioè c'è da capire qualcosa. C'è da capire qualcosa. E quindi chiaramente se io imposto la questione così, che c'è da capire qualcosa, misuro la capacità di capire qualche cosa e regolo la mia proposta su questa capacità, ma questo è un pregiudizio, oggettivamente è un pregiudizio, invece la fede non è, la capacità intellettiva non è l'unico, non è il principale accesso alla fede, perché alla vita spirituale si accede per ogni via di senso. E la spiritualità è un bisogno umano fondamentale, un bisogno umano di tutti, che rende la vita vivibile per tutti quanti, per questo anche per le persone con disabilità è qualcosa che rende la vita vivibile. Un secondo pregiudizio che abbiamo individuato è il pregiudizio religioso, cioè il fatto di pensare che in qualche modo una persona che vive una condizione di disabilità sia esente, per motivo misterioso, sia esente da quella che è l'incontro della nostra umanità con l'annuncio di fede. E che quindi non ci sia la possibilità di credere, la possibilità di amare, la possibilità di peccare, la possibilità di accogliere o rifiutare un invito, la possibilità di partecipare ai sacramenti, la possibilità di partecipare alla catechesi. Purtroppo ogni tanto capita di sentire anche, per esempio, situazioni di esclusione dai sacramenti dovute a un puro, puro pregiudizio. Per cui, no vabbè ma non ne ha bisogno. Come non ne ha bisogno? Perché non dovrebbe aver bisogno questa persona dei sacramenti che sono gli strumenti di salvezza che la Chiesa celebra proprio perché tutti quanti abbiano la grazia. Certo che tutti quanti abbiamo bisogno dei sacramenti, almeno dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, quelli sono la base per tutti quanti, ma anche direi del sacramento della penitenza, della riconciliazione, dell'unzione. Cioè la sacramentalità della Chiesa è un dono di cui nessuno deve essere privato. Quindi questo pregiudizio religioso a volte ci porta a minimizzare magari quella che è la possibilità di annuncio o di recezione della fede. E poi il pregiudizio comunitario, il terzo pregiudizio, quindi cognitivo religioso comunitario, che ci sembra un po' legato a una dinamica parrocchiale. Per cui, ah sì, di queste cose se ne occupa il parroco. Oppure, ah sì, di queste cose se ne occupa quel catechista perché quel catechista ha un figlio con disabilità, allora lui se ne occupa, no? Oppure perché di questo se ne occupa quella persona specifica. No, cioè sono temi di cui ci occupiamo tutti quanti. L'inclusione è una preoccupazione di tutta la comunità, ma come vi dicevo la comunità esiste in gradi di appartenenza e partecipazione diversi, quindi anzitutto del gruppo dei catechisti, no? Del gruppo dei catechisti che condivide questa responsabilità. quindi ricordiamoci l'inclusione di tutti, o come dice il Papa, come ha detto molto bene, il Papa di tutti, tutti, tutti. L'inclusione di tutti non è un atto supererogatorio, un atto di carità, cioè noi viviamo la vita che siamo e poi, siccome siamo molto buoni, allora includiamo tutti. Non è questo, è che se no ti manca un pezzo, ti manca qualcuno, diceva prima Sor Veronica giustamente, ma sono qui tutti i tuoi figli? Cioè la questione sarebbe vivere come parrocchia, come comunità cristiana, il dolore di vedere che non sono tutti qui, che c'è qualcuno che non è venuto perché si è sentito, perché ha pensato di non poter proprio venire, ha pensato che non ci fosse spazio per lui, non perché ha rifiutato la cosa, ma perché si è sentito che quello non era il posto per lui. Questo veramente sarebbe un grande fallimento, quindi sentire questa urgenza di inclusione, non come un atto di carità supererogatoria, ma come una necessità, un'esigenza fondamentale della nostra fede. Bene, allora abbiamo poi dato alcune indicazioni in due parti che si chiamano per una comunità inclusiva e per una relazionalità inclusiva, che riguardano appunto alcune attenzioni comunitarie, quindi cose che dobbiamo in qualche modo decidere tutti insieme e su cui possiamo lavorare tutti insieme e cose invece che riguardano la relazionalità, cioè quindi il mio rapporto di catechista con il gruppo di catechesi, con i bambini, con i ragazzi che sono nel gruppo di catechesi. Sono cose che non è che riguardano le persone con disabilità, riguardano tutti quanti, cioè riguardano la comunità cristiana verso tutti e riguardano il catechista verso tutti, cioè tutto ciò che si dice sulla condizione di disabilità di alcune persone e sulle esigenze che questo ha, non riguarda quelle cose specifiche, ma riguarda tutti quanti, cioè la relazione e l'inclusione delle persone con disabilità è un laboratorio che serve per rendere la comunità cristiana inclusiva. Quindi le cose che diciamo, prendiamo spunto dalla catechesi con le persone disabili, ma valgono per tutti e questo è fondamentale, no? Cioè non è una cosa settoriale. Ah certo, con quel bambino che ha questa caratteristica mi comporto così. No, no, stiamo dicendo che ci si comporta così sempre con tutti i bambini che vengono alla catechesi. Certamente. Il fatto di avere quel bambino in qualche modo mi obbliga a fare così, perché se no non riesco a comunicare con lui, ma vale per tutti. Quindi per questo dicevamo è un cambio di mentalità, no? Che dobbiamo assumere tutti quanti. Allora, nella parte sulla comunità inclusiva abbiamo evidenziato alcuni punti chiave. Anzitutto la grandissima questione, parliamo della catechesi dell'iniziazione cristiana, no? Del rapporto con le famiglie e dell'instaurare con le famiglie un patto educativo. Questo, come sappiamo, è un'attenzione fondamentale. Ma anche qui non è che riguarda solo le famiglie dei bambini con disabilità, riguarda tutte le famiglie che si presentano alla catechesi, riguarda tutte le bambine e tutti i bambini, no? Ma traiamo l'occasione dal nostro discorso e dal nostro tema. Il secondo punto è la questione del come si comincia la catechesi. Anche questo, un principio generale. La catechesi non si comincia dagli incontri con i bambini, la catechesi si comincia dagli incontri con le famiglie. Quindi non si parte durante l'anno sparati che l'8 settembre comincia il catechismo e arrivano i genitori, ti lasciano i bambini e ciao, ci si rivede a Natale per la preghiera, ci si rivede a fin anno. No, si comincia con degli incontri con le famiglie, cioè si fa un periodo di inserimento dei bambini. Questo è fondamentale perché poi ciascuna parrocchia ha le sue misure di coinvolgimento delle famiglie. Ci stanno parrocchie che fanno la catechesi solo familiare, cioè la catechesi si fa solo con le famiglie, tutte insieme con i bambini, solo quello. Non ci sono cose che fanno i bambini da soli. Ci stanno parrocchie che invece fanno la catechesi con i bambini regolarmente ogni settimana e poi degli appuntamenti con le famiglie, va bene, uguale, ma comunque sia tutti quanti dobbiamo cominciare dai bambini con le famiglie tutti insieme. Si comincia l'anno sempre con degli incontri con le famiglie, a volte solo con i genitori, magari soprattutto all'inizio per dire loro che cosa facciamo con i vostri figli, qual è il progetto educativo, qual è il patto che dobbiamo fare per aiutarli un po' ad accompagnare i bambini e poi si fanno alcuni incontri con le famiglie tutte insieme. Famiglie intendiamo qualsiasi tipo di famiglia, basta anche un genitore con un bambino, va bene, uguale. Bene, dunque questo è appunto un principio generale, gli incontri iniziali con le famiglie, poi alcune cose un po' più pratiche, cosa può fare la nostra comunità per essere una comunità inclusiva nel fare catechesi, noi parliamo sempre della catechesi, ma la catechesi come ben sappiamo, anche se non è tutta la pastorale della parrocchia, è però una parte molto rilevante della pastorale della parrocchia, quindi rispetto al tema dell'inclusione non è che l'inclusione si gioca tutta nella catechesi, però la catechesi è un laboratorio di inclusione notevole, quindi sappiamo che è un punto caldo delle relazioni con le famiglie, perché tanto per darvi un esempio banale, quante famiglie frequentano regolarmente la messa domenicale? Una percentuale bassa. Quante famiglie portano i bambini alla catechesi dell'iniziazione cristiana? Una percentuale alta, c'è un grande stacco fra questi numeri, quindi il che vuol dire che la catechesi è un'occasione veramente particolare di incontro e quindi bisogna farci particolare attenzione. Dunque, possiamo certamente fare attenzione ai nostri spazi, una cosa proprio banale, come diceva Don Luigi, è difficile salire sul palco, per esempio queste sono cose a cui fare attenzione, ma anche creando degli spazi belli, che siano confortevoli, che siano accoglienti e anche ovviamente poi sapendo regolare, ma questa è un po' la parte successiva, la fruizione degli spazi sulla base delle condizioni della persona. Magari mi rendo conto che in questa stanza il sistema di illuminazione non è adatto alla fruizione da parte di quella bambina, è troppo forte, questo tipo di luce non va bene, no? Cioè, chiaro che io faccio come catechista, come sacerdote, così cerco di preparare degli ambienti che siano belli, che siano confortevoli, accoglienti, accessibili, poi però mi regolo sulla base del singolo, no? Per cui magari quel gruppo di catechesi non fa l'incontro nella stanza come lo fanno tutti gli altri, perché quella stanza non va bene per quella bambina che c'è nel gruppo di catechesi, no? Invece fa l'incontro da un'altra parte. Il tempo certamente è un fattore determinante, no? Della gestione della catechesi, come organizzo il tempo di una riunione in modo che tutti quanti possano vivere bene, senza chiedere un'attenzione troppo prolungata, perché magari un bambino a DHD non riesce a reggere quel tempo di attenzione, no? E non pretendo che il tempo sia vissuto da tutti nello stesso modo, anzi, invece di fare una riunione che è fatta dal minuto 1 al minuto 8 facciamo questo, dal minuto 8 al minuto 21 facciamo quest'altro, cioè così, no? E tutti quanti i bambini devono stare al ritmo, che non funziona, no? Ho una gestione della riunione di catechesi che ha una parte che si fa tutti insieme, ascoltiamo la parola tutti insieme, per esempio parliamo un po' di ciò che abbiamo ascoltato e poi invece una parte che è un po' più personale, che può essere gestita anche in modo diverso, perché un bambino ha bisogno di più tempo, un bambino ha bisogno di meno tempo. Quindi la questione del tempo e poi la questione delle dinamiche, cioè del concretamente che cosa facciamo tutti insieme, facendo sempre tesoro del fatto che la principale dinamica che viviamo negli incontri di catechesi è la proposta della vita cristiana, quindi l'ascolto della parola, la liturgia, la comunità e la preghiera. Il catechista ha un ruolo di mediazione fondamentale, sia nei confronti delle famiglie che nei confronti del bambino, nei confronti del gruppo di catechesi e nei confronti degli altri operatori pastorali, degli altri catechisti, del sacerdote, quindi considerate veramente il ruolo del catechista come un ruolo centrale rispetto alla questione dell'inclusione, è veramente un ruolo centrale e quindi di grande responsabilità però anche molto appassionante, veramente si può fare la differenza. Alcune note sulla relazionalità, ve le elenco, la questione dell'accoglienza, la questione dell'osservazione dei bambini, la questione del linguaggio, del come parliamo, del fare attenzione al verbale ma anche al paraverbale e anche al non verbale. Sapere che sto comunicando sempre, anche quando non parlo e che la comunicazione non verbale ha un peso gigantesco e per cui se io ti dico Dio ti ama ma il verbale va in contraddizione con il paraverbale e con il non verbale, cioè con l'espressione, con i gesti, con tutte queste cose, il messaggio è inutile oppure peggio dannoso perché è contraddittorio. Quindi fondamentale avere coscienza di questa comunicazione e anche osservare la comunicazione delle bambine e dei bambini in tutti i livelli, non solamente ciò che ha detto quel bambino ma come lo ha detto la postura e i gesti che ha fatto. Come rendere più inclusivo il linguaggio, qui c'è un bellissimo riferimento negli atti degli apostoli, il capitolo 2 degli atti degli apostoli che per noi catechisti è capitolo madre fondamentale perché si vede come funziona la dinamica della catechesi, dell'annuncio, che ci racconta come vive la prima comunità cristiana e anche il capitolo nel quale c'è questa frase bellissima perché l'annuncio che Pietro fa il giorno di Pentecoste, come sapete, viene fatto da Pietro nella sua lingua ma ciascuno dei presenti, e sono di varie nazionalità, lo sente nella propria lingua e quindi tutti si chiedono ma come facciamo a sentire ciascuno nella propria lingua nativa questo annuncio? ecco questa è la questione fondamentale del linguaggio della catechesi, imparare la lingua dell'altro in modo da poter annunciare il Signore nella lingua dell'altro, questa è una responsabilità nostra di catechisti non è il bambino che deve imparare la mia lingua, sono io che devo imparare la sua lingua e nel parlare lui imparerà anche la mia e questo, ve lo dico ancora una volta, ribadisco, come sappiamo non vale solo per i bambini che vivono una condizione di disabilità ma vale per tutti quanti, ma vi direi non vale solo nella catechesi, questo vale nella vita se vuoi parlare con qualcuno devi imparare il suo linguaggio, se vuoi voler bene a qualcuno devi imparare il suo linguaggio affettivo e conoscere il tuo linguaggio affettivo perché se non hai queste consapevolezze fallisce la relazione poi il tema della assertività, cioè della nostra posizione emotiva davanti al bambino della nostra reazione rispetto agli stimoli che arrivano dal bambino e ultima la questione dell'empatia di cui anche il Papa parla quindi questi sono tutti degli spunti su cui riflettere a livello della nostra relazione questo è un suggerimento anche carino che riguarda una delle modalità di ascolto della parola sapete che nella tradizione ignaziana nella tradizione dei gesuiti, della preghiera dei gesuiti dopo aver ascoltato la parola di Dio, dopo aver meditato la parola di Dio e aver pregato mi chiedo quali pensieri e quali sentimenti abbia suscitato in me la preghiera che cosa ho vissuto nel pregare, nell'ascoltare la parola e questo è anche ciò che facciamo con i bambini ascoltiamo insieme un brano del Vangelo tutti quanti lo ascoltiamo insieme il catechista per primo ascolta il brano del Vangelo insieme con i bambini non glielo spiega e poi si risuona cioè si lasciano emergere i pensieri e i sentimenti che il brano del Vangelo ha suscitato in me e possiamo dire qualsiasi cosa allora è utile a volte un'alfabetizzazione emotiva aiutare i bambini a individuare bene le emozioni che suscita l'ascolto della parola questa immagine della vita e dei tralci questa immagine del pastore buono con le sue pecore che emozione ha suscitato in me la ruota delle emozioni è un modo di far risuonare la parola un altro principio nella relazione educativa è la gradualità questo è fondamentale come sapete in tutta la catechesi ma ha anche delle conseguenze molto pratiche non è detto che l'esperienza te la devo far fare tutta tutta insieme fin dal principio non è detto che la partecipazione alla messa domenicale sia necessariamente dall'inizio alla fine tutti insieme, tutti uguali, per tutti non è detto non si fa così ma si misura secondo le capacità secondo le capacità del gruppo ma a volte con particolare attenzione anche secondo la possibilità del singolo e di quella famiglia ed è importante saper riconoscere e apprezzare quel tipo, quella quantità di partecipazione che una famiglia può dare per esempio alla messa domenicale che è il tema più classico, quello della partecipazione alla messa poi c'è un'ultima sezione in cui molto velocemente c'è qualche nota sui disturbi evolutivi specifici e le disabilità si comincia dai disturbi evolutivi specifici evidenziando quelli che sono quelli che più comunemente incontriamo nella catechesi quindi DSA ADHD e oppositivo provocatorio con una minuscola descrizione e qualche nota sotto di consiglio di atteggiamento ovviamente su tutti questi temi trovate tantissimo materiale sia online sia a stampa e sia soprattutto abbiamo la necessità di informarci e di formarci a partire dai bambini che abbiamo quindi non è che io già so come ci si comporta in questo caso ma mi informo, conosco la famiglia, conosco il bambino, conosco tutto ciò che posso conoscere per comprendere quindi è chiaro che poi l'esperienza ci dà tanto però ogni volta devo un po' imparare perché ogni volta devo osservare devo empatizzare devo conoscere poi la parte sulla disabilità che ha semplicemente una slide sulla catechesi per i bambini con disabilità che essendo ampia la gamma delle possibili disabilità anche totalmente diverse quindi non è che si può dire una cosa generale imparerò secondo la necessità quello che c'è da fare però un punto importante è la questione del numero dei catechisti e la questione della presenza di un catechista di sostegno per aiutare quella bambina o quel bambino la questione del numero dei catechisti qui ci sono parrocchie che hanno un rapporto bambini-catechisti molto buono e parrocchie nelle quali invece dei catechisti si trovano a gestire da soli magari un gruppo di 20 bambini che è una cosa esagerata, una cosa impossibile immaginati se in quel gruppo con 20 bambini hai anche la presenza di una bambina DSA o un bambino ADHD cioè già sono troppi inventi e non hai la capacità di dare quell'attenzione necessaria per aiutare i bambini a vivere bene la catechesi quindi la questione del numero, del rapporto fra catechisti e bambini è una questione importante su cui sensibilizzare tutti i catechisti tutte le persone della parrocchia chiedere aiuto e anzitutto i sacerdoti non possiamo fare così, non può funzionare questa cosa e poi la presenza di un catechista di sostegno nella stragrande maggioranza dei casi l'ideale è che non ci sia un catechista dedicato che isoli la relazione rispetto alle altre relazioni alle relazioni del gruppo ma che ci sia un catechista di sostegno nel caso di un bambino con disabilità che ha bisogno effettivamente di un'attenzione particolare quindi è una cosa da incoraggiare la presenza di un catechista di sostegno che magari abbia sviluppato una maggiore sensibilità rispetto agli altri una maggiore formazione rispetto agli altri senza però isolare la relazione per cui c'è questo bambino che ha questo catechista e si relaziona solo con questo catechista e il gruppo fa delle cose a parte questo nella stragrande maggioranza dei casi poi le eccezioni ovviamente esistono sempre e poi per concludere una piccola scheda sui linguaggi CA che come sapete sono molto utili per esempio nel caso dei surbi dello spettro autistico sulla pagina dell'ufficio catechistico nazionale anzi del settore del servizio nazionale per la catechesi con le persone disabili c'è un elenco di materiali in CA cioè in comunicazione alternativa aumentativa e trovate sia le preghiere le principali preghiere il Padre Nostro, l'Ave Maria eccetera eccetera ma anche un po' di alcuni brani del Vangelo quindi se serve c'è già questo materiale online e quindi si può assumere, si può prendere, si può usare si possono mettere nelle chiese queste piccole iconcine per aiutare ultimo, se qualcuno vuole approfondire ci sono tantissime cose belle online abbiamo segnalato semplicemente appunto il sito del settore disabili dell'ufficio catechistico nazionale un fascicolo di questa università l'università salesiana che è un istituto di catechetica che ha una grande tradizione di catechesi e attenzione alle persone con disabilità perché la rivista Catechetiche ed Educazione nel 2021 ha dedicato un numero a questo tema ci sono vari articoli interessanti ed è facilmente disponibile online e poi ovviamente ci sono i documenti base sulla catechesi ma questi vabbè, già li conoscete bene, allora ribadisco è semplicemente un piccolo strumento che serve per la autoformazione quindi viene dato perché possiamo riflettere tutti insieme è online, è in pdf formato A4 quindi è facilmente stampabile se uno lo vuole stampare ma si può anche semplicemente leggere online è un link aperto quindi la fruizione è molto semplice e appunto desideriamo che sia semplice per tutti i catechisti averlo sotto mano grazie ecco ringraziamo don Andrea per questa presentazione sempre preciso, puntuale, impeccabile siamo perfettamente negli orari stabiliti certamente a caldo ci sono tanti che vorrebbero intervenire adesso magari fare delle domande, curiosità e cos'è rimandiamo a dopo questo momento di dibattito prima delle conclusioni da parte del nostro Vescovo nella seconda parte della mattinata dal programma abbiamo alcuni interventi diceva don Andrea tanti hanno collaborato a realizzare questo strumento questo Vade Mecum è veramente uno strumento a più mani dove ognuno ha dato il suo contributo la sua partecipazione è veramente uno strumento ricco però capite bene che non potevamo questa mattina far intervenire tutti quanti ma la voce di chi interverrà sicuramente rappresenterà anche coloro che hanno aiutato alla realizzazione del Vade Mecum alcuni li abbiamo anche già sentiti lungo il nostro percorso pensate ad Alberto e Antonella pensate a Don Gianni che non è presente ma manda il suo saluto questa mattina ecco abbiamo pensato a tre interventi a Valeria Sansoni Maria Scicchitano ed Elisabetta Gambardella e Riccardo Calanca così come dal vostro programma vedete ecco chi sono Valeria Valeria come diceva Don Andrea ha lavorato già ad una prima insieme con Don Luigi realizzazione del Vade Mecum è una catechista e una docente che molti di noi già conoscono perché è stata sempre più volte presente ai nostri incontri quindi una persona che è impegnata in prima persona nel campo della disabilità è veramente il suo aiuto il suo contributo è servito tanto anche per la realizzazione del Vade Mecum Maria per chi ha partecipato all'altro incontro in presenza alla Don Guanella ricordate c'era Angelo il marito con Maria e la moglie psicoterapeuta oltre che catechista ma anche lei grazie alla sua esperienza e al suo contributo ha dato un sostegno importante alla realizzazione del Vade Mecum e poi Elisabetta e Riccardo sono i referenti insieme con Don Luigi della pastorale della disabilità con un richiamo specifico nell'ambito poi ce lo diranno loro in modo particolare ecco a loro do subito la parola abbiamo dato dei tempi dieci minuti massimo per un intervento e poi subito dopo partiamo con le vostre domande le vostre considerazioni ripeto abbiamo dovuto fare una selezione sono con noi Alberto e Antonella che salutiamo anche perché presenti ma do subito la parola a Valeria buongiorno ringrazio Don Enzo Don Andrea è stato un piacere collaborare per fare questo Vade Mecum per due motivi perché la mia testimonianza qui nasce da un'esperienza di circa quattro anni fa nella parrocchia dove svolgo servizio Santa Chiara dove appunto si è affacciata una bambina con autismo grave non verbale da cui mamma ha chiesto la comunione e la confessione quindi il vice parroco che c'era in quel momento mi ha chiamato mi ha chiesto se potremmo fare qualcosa io sono insegnante di sostegno tecnico ABBA e insomma ho varie specializzazioni ma la cosa che ci ha colpito era proprio la richiesta di questa mamma per questa bambina e chiedeva qualcosa che andasse fuori dalla scuola e fuori dalle terapie fuori da tutte le attività che una persona con disabilità deve fare per forza quindi ci siamo messi in movimento ci siamo messi al lavoro e abbiamo costruito questa bambina conosceva la CIA e abbiamo costruito un libretto in CIA per farle innanzitutto seguire la messa perché la messa Don Andrea parlava di gradualità è la parte importante per un'iniziazione cristiana un cammino di iniziazione cristiana può essere anche fatto già imparando a partecipare alla messa e poi ci sono gli incontri che ovviamente completano ma la partecipazione alla messa con un inserimento graduale così come è stato fatto permette proprio che la bambina partecipi alla messa sia partecipi alla celebrazione della sua prima comunione insieme agli altri la famiglia partecipi alla messa che di solito spesso non vengono perché hanno timore non si sentono hanno paura che disturbino i propri figli e quindi diciamo che la prima forma di inclusione è proprio iniziare da questo inserimento graduale in chiesa che poi porta però piano piano a seguirla tutta oppure come diceva Don Andrea anche solo una parte ma quella parte magari si sceglie insieme al sacerdote la più gestuale quella più dinamica e già è tanto è già un passo grande e dopo questa esperienza ne sono seguite altre quindi altri bambini che usavano la CIA oppure una DHD e anche lì ci siamo occupati intanto cambiavano i ceparroci ci siamo occupati sempre di cercare di dare a queste persone a questi bambini e alle famiglie uno spazio sociale dove potessero compiere il loro percorso di iniziazione cristiana compiere il loro pomeriggio in oratorio compiere la loro la loro vita nella nella comunità e in parallelo era iniziata anche questa collaborazione con Don Andrea quindi come due binari del treno sono paralleli ma in realtà hanno tra loro dei ponti per cui il lavoro capillare poi lo riportavo diciamo come contributo in in questa sede e in questo modo è venuto fuori appunto alcune parti di questo di questo va de me con che rimangono pratiche cioè proprio un come fare che penso che possa tornarvi utile mi soffermo appunto anche sulla parte del catechista il catechista come mediatore è quello che poi io mi sono trovata a fare adesso qualche altro catechista mi sta seguendo e per cui organizzare l'inserimento il percorso inclusivo di questi bambini o persone o ragazzi perché non finisce con la comunione poi chiedono un oratorio poi ci sono le cressime poi c'è il gruppo giovani universitari che è un altro ambito però anche lì vogliono chiedono di poter partecipare e quindi mediatore tra le famiglie il gruppo dei coetani dove il catechista presenta la persona con disabilità evidenziando le sue risorse facendo vedere le sue diverse modalità di relazione e di essere accolto le diverse modalità di comunicazione quindi come si parlava di un linguaggio diverso che è la CIA ma può essere un linguaggio anche solo iconico oppure un altro modo e così come organizzare un incontro il catechista deve fare questo e cercare di sensibilizzare e informare tutti gli altri catechisti perché è di tutti non sempre c'è il catechista presente magari non può e allora magari dice guarda Ludovico bisogna di essere aiutato per questo ci pensi tu? sì certo perché perché ci siamo parlati perché abbiamo fatto rete interna nella parrocchia e abbiamo fatto rete e ci siamo condivisi magari anche davanti a un caffè tutte le cose che bisogna fare quindi la persona con disabilità non è del catechista non è del gruppo ma è di tutti quanto ritorno sul discorso della partecipazione alla messa e trovare nella messa dei momenti in cui anche questi bambini queste persone possono essere incluse vuol dire considerare il loro diverso modo magari se non possono salire i gradini allora il parrenostro si allarga si dice all'altare e si arriva fino ai primi gradini della chiesa così anche chi non li sale può stare e l'offertorio si trova un gruppo di bambini magari e si arriva fino in basso senza salire piccole attenzioni alla portata di tutti i catechisti che aprono appunto che si aprono verso quest'altra una mentalità inclusiva quella che suor Veronica parlava di terza postura quella che presta attenzione alla persona quella che presta attenzione alla persona è i suoi bisogni suoi ma che sono bisogni di tutti quindi non una cosa che va sulla specialità siccome c'è lui facciamo così siccome c'è lui no facciamo così perché può esserci lui ma anche lui ma anche quello che ha bisogno del linguaggio iconico quindi ci prepariamo e quindi adesso è nato da pochissimo questo servizio inclusione nella mia parrocchia dove siamo due catechiste e ci occupiamo proprio di accogliere le persone con disabilità qualsiasi cioè dall'iniziazione cristiana appunto come dicevo al gruppo degli universitari e dei giovani cerchiamo di sensibilizzare e parlare con i catechisti che si occupano di quel settore parliamo col parloco cerchiamo di organizzare l'incontro e dare a loro dei mezzi per per poter accogliere e far e creare uno spazio sociale un percorso di iniziazione un pomeriggio all'oratorio per queste persone è un servizio verticale perché appunto va dagli 8-9 anni fino all'universitario fino a che c'è gruppo c'è possibilità di fare vita di comunità e orizzontale perché presta attenzione anche alla messa alle celebrazioni a come organizzare un inserimento graduale e tutte queste piccole attenzioni che appunto fanno la differenza tra una forma di assistenzialismo e una forma di specialità in una forma invece di riconoscimento della persona con i suoi bisogni e con le sue particolarità che non mi piace neanche come termine con le sue esigenze questo è quello che abbiamo fatto grazie grazie Valeria do subito la parola a Maria Scicchitano salve intanto grazie per questo invito ringrazio Don Enzo quando ci ha chiesto a me ad Angelo a mio marito di aiutarlo per un pochino con la nostra esperienza per fare questo Vade Mecum intimamente non ve lo nascondo un pochino ci siamo commossi perché abbiamo sentito come se si cominciassero a vedere persone che per tanto tempo si sono sentite invisibili e questo lo dico perché abbiamo avuto abbiamo tante volte a che fare con le famiglie con persone con disabilità e vediamo come per loro come cristiani si può accettare che la società voglia eliminare la sofferenza o non vederla o eliminare il limite ma il cominciare a vedere che la chiesa come madre li comincia a guardare a pensare a immaginare a considerare questo tante volte abbiamo visto che gli può dare quella speranza che in quel momento stava cominciando a mancare e quindi io oggi quello che vedo qui è tanta bellezza sinceramente perché vedere tante persone che sono disposte a mettersi in gioco in questo cammino che è un inizio forse di cammino non siamo arrivati forse non arriveremo mai ma non è questo il punto però aver cominciato questo cammino verso questo incontro con quest'altro oggi a me dà speranza ed è anche tanta allegria perché sento che stiamo nella direzione giusta cioè stiamo intraprendendo il cammino giusto e la chiesa ha ascoltato questo grido di cui parlava il papa veramente come una madre oggi volevo sottolineare alcuni aspetti per me è sempre molto importante parlare della famiglia della persona con disabilità a volte parlavamo del sentirsi invisibili alcune persone con disabilità neanche ne hanno la consapevolezza di sentirsi invisibili ma le famiglie sì i loro genitori sì e allora Rogers parlava di tre caratteristiche fondamentali per instaurare una relazione di aiuta autentica vera no una relazione vera che secondo me oggi sono fondamentali sono importanti anche per noi come catechisti la prima parlavamo anche nel vademecum dell'empatia l'empatia non è soltanto il sentire ciò che prova l'altro è un sintonizzarsi con quello che sta provando l'altro è un far risuonare dentro di noi ciò che l'altro sta provando che a volte può sembrare impossibile ma soprattutto è un sospendere il giudizio e le nostre interpretazioni e qui tante volte è difficilissimo lo vedo anche io come terapeuta come psicologa no cioè tante volte noi cerchiamo come esseri umani di trovare il perché ad una ad una situazione no cercare la la soluzione di quel problema ecco forse non ci è chiesto oggi questo cioè non ci è chiesto oggi di trovare il colpevole il problema la soluzione ci è chiesto di stare accanto a che è tutta un'altra cosa è entrare in una nuova dimensione mi ha sempre colpito quel Vangelo del cieco in cui i discepoli incontrano il cieco e chiedono a Gesù ma è per colpa sua dei peccati suoi o dei peccati dei suoi genitori e là quante volte di fronte alle problematiche di un bambino noi pensiamo forse è perché la madre fa così è perché il padre è così è perché loro vivono in questa situazione e tanti perché perché no e subito ci mettiamo a interpretare a motivare a giudicare anche benevolmente forse no cercando o pensando di poter aiutare ecco l'empatia è un'altra cosa forse noi non ci potremmo mai mettere nei panni di quei genitori o nei panni di quella famiglia ma certamente noi non sappiamo il perché Dio ha donato a loro quella sofferenza e non l'ha donata oggi a noi perché a noi magari ne ha donate altre e allora stare di fronte alla sofferenza e alla croce di una famiglia non significa trovare una risposta al perché Dio gliel'ha data perché non è dato a noi trovarla quella risposta ma è stargli accanto vederli guardarli farli sentire visti forse anche amati se Dio ci dona oggi di farlo la seconda caratteristica di cui parla Rogers fondamentale è l'autenticità cioè un rischio qual è? quello di poterci nascondere dietro il nostro ruolo di catechisti o tante volte anche no? di terapeuti dietro la scrivania o dietro il banco dell'aula del catechismo e parlare per ciò che abbiamo sentito parlare per ciò dicendo cose che noi pensiamo che potrebbero aiutare noi invece quanto è importante dire solo ciò che noi sentiamo che corrisponde al nostro sentire no? e senza nasconderci dietro a nessun ruolo o a nessun banco il terzo punto che io trovo fondamentale è l'accettazione incondizionata quando si parla di accettazione incondizionata quando Rogers parla di accettazione incondizionata non dice che bisogna per forza approvare o condividere i valori i sentimenti dell'altra persona ma accettare che quella persona li stia provando e accettare che noi in quel momento non siamo lì per giudicare la persona che in quel momento si sta comportando o sta esprimendo quell'emozione o quel sentimento no? penso magari ad alcuni catechisti quando vedono i genitori che portano il figlio a catechismo può essere il figlio con disabilità o meno e poi loro se ne vanno via no? senza rimanere magari al momento di condivisione della messa o senza condividere altri momenti no? quante volte ci può avvenire di dire beh vedi però i genitori che fanno così vedi però lo portano perché pensano che sia un parcheggio vedi però allora forse oggi non c'è bisogno di come dire di porre noi un giudizio nei confronti di questi genitori no? ma anche accettare che ci sono dei genitori che vivono delle sofferenze o vivono dei momenti di allontanamento della chiesa ma che in quel momento ci stanno portando loro figlio e questo già basta questo già vale questo già già significa eh? e anche rispetto alle loro emozioni no ma non devi scoraggiarti no ma non devi soffrire no ma no ma va bene anche va bene anche va bene anche a volte scoraggiarsi quante volte noi ci scoraggiamo di fronte ai nostri limiti alle nostre sofferenze no? e allora far sentire finalmente la parrocchia come un luogo di incontro un luogo di comunità che accoglie senza spiegare o senza come posso dire definire no? ma ti accoglie per quello che sei per quello che stai provando oggi perché va bene in qualsiasi caso perché è andato bene a Dio a Gesù Cristo e quindi va bene anche a noi come tante volte noi ci siamo sentiti accolti incondizionatamente da Gesù no? a prescindere dai sentimenti che provavamo in quel momento un'ultima cosa che ci tengo a dire è che questo non è stato pensato e non è come corso di perfezionamento perché non siamo venuti qua per perfezionarci a fare qualcosa sarebbe sbagliato pensarla così no? oppure per diventare esperti in qualche dinamica no? assolutamente questo può essere soltanto uno stimolo un inizio di uno stimolo no? per cominciare a farci venire il desiderio di questo incontro e allora anche il vademecum come diceva anche Suor Veronica non è un abito già preconfezionato perché ogni situazione che voi incontrerete che noi incontreremo sarà totalmente unica no? e allora quanto è importante l'ascolto di queste famiglie cosa loro desiderano e allora una famiglia con un bambino con disabilità di autismo grave la comunione questo ad esempio è accaduto a noi la comunione insieme a tutti o in disparte non c'è una regola cosa la famiglia desidera quali sono le loro paure e vanno bene e vanno accettate quali sono le loro aspettative quali sono le loro richieste nei confronti di questa chiesa madre che si mette oggi in questo ascolto no? ecco allora oggi io vedo che a noi la chiesa ci chiede di fare questo servizio anche come compito e io vedo che è un'elezione cioè non è scontato no? cioè è una chiamata no? e allora anche essere grati di poter servire sapendo che noi siamo i primi a riceverli a ricevere tanto da questi ragazzi da queste famiglie no? che tante volte vivono delle situazioni che forse noi non saremmo neanche in grado di reggere grazie a Maria e ora abbiamo Elisabetta e Riccardo buongiorno a tutti mi presento mi chiamo Riccardo sono sposato con Elisabetta abbiamo tre figli qui tre figli in cielo il mio lavoro io lavoro come insegnante di lingua dei segni primo, secondo e terzo livello più un corso interprete e sono anche assistente alla comunicazione nelle scuole buongiorno a tutti ecco come vedete il solito può segnare può parlare ci sono questi due mondi e ad esempio voglio dire una cosa molto importante ho letto questo è veramente molto bello interessante infatti ringrazio molto per quello che ha chiesto però c'è una cosa molto particolare infatti parlando sulla visibilità in generale perché manca questo ambito sulla sordità perché perché dico questo magari la prossima volta potremmo lavorarci molto su questo ambito perché è come vedete un'attivabilità impossibile e io posso benissimo camminare come voi posso non parlare di sostituito quindi è un'attivabilità che non si vede se il solito segna si vede che haci questo asciutto quindi magari non si sente bene ma ci sono questi due mondi che con breve sintesi c'è un mondo organista che significa che è un mondo dei sordi che non sanno che parlano come me e poi ci sono i sordi segnanti che sanno segnare oppure i sordi che sanno fare le gambe le lingue sanno parlare che mi ha insegnato e ci tengo a dire che quando ero piccolo facevo parte e andavo in chiesa ogni domenica facevo il catechismo ma non capivo niente quindi io andavo e seguivo ogni giovedì mi ricordo che ero giovedì e non capivo niente sentivo che avevo spiegato sapere la preghiera la preghiera la preghiera e basta quindi tornavo a casa senza capire il senso vero dell'amore di Dio e quindi ho lasciato la chiesa eccetera poi ho incontrato il signore mi ha mandato di sapere come strumento per entrare nel mondo e lì sono entrato nella comunità e comunità neovocati comunali e devo dire che questa comunità non è una comunità diciamo adatta per i disabili però grazie a Mamone che ha interpretato che mi ha sempre tradotto nel passare degli anni ho avuto quattro fratelli sorenne che hanno partecipato per imparare questa lingua e grazie a loro quando la rimasta incenda è nata e finì non più sono rimane occupate e finì chiaramente no io avevo fratelli oppure magari non poteva partecipare perché stava male io potevo andare in comunità e sentire veramente questa parola e questa comunità la differenza di andare a messa ogni domenica per me non basta non basta ho bisogno di la comunità mi fa capire l'amore di Dio la parola si dice che Dio li fa poi li accoppia noi ci siamo proprio accoppiato perfettamente ecco la prossima cosa mi sono ricordato molto importante diciamo questa comunità percorso e questa comunità di Vatemi Giorelli ci hanno scelto come catechisti e quindi non abbiamo scelto noi è una scelta da parte della comunità quindi è molto bello perché significa che il Signore ci ha voluto essere partecipi all'attivo di questo e veramente torno per confrontare nel senso che il sottotituto come atti di stabilità posso rifare questa questa è così sì io sono oltre che molti di Riccardo sono anche logopedista dell'età evolutiva e interprete di lingua dei segni e come diceva Riccardo siamo un po' referenti per quanto riguarda la disabilità conosco Luigi e Veronica da un po' di anni parecchi e insomma mi colpiva quello conosco anche Don Andrea insomma da un po' abbiamo fatto anche qualcosa insieme tanti anni fa e ogni volta che poi ecco ci sono questi incontri a me colpisce sempre perché è stato anche molto bello quello che è stato detto sì è vero quello che dice Riccardo tutto l'aspetto sulla lingua dei segni che è usata anche come una lingua come una comunicazione aumentativa alternativa quindi sia per i sordi sia per le alcune disabilità un po' più grave quindi è importante anche questo che venga fatta una formazione con Luigi e andiamo ormai da anni nelle parrocchie a fare sensibilizzazione corsi di primo secondo e terzo livello qui c'è una ragazza una ragazza una mamma che proprio ha iniziato i corsi nelle parrocchie e adesso sta al secondo livello insomma ed è bello questo perché quello che si dice poi diventa concreto quando poi ci dicono di dare la nostra esperienza mi colpisce sempre perché tutto questo ecco è possibile cioè si può fare non è solo bello a parole ma si può fare quello che diceva Riccardo è vero anche quello che diceva un po' Maria no? è una è un'elezione che venne fatta cioè noi stavamo bene anche al nostro posto e ci hanno chiesto di fare i catechisti ed è una cosa per gli altri cioè bella per noi ma anche vedere che Riccardo che è sordo e può fare catechesi può fare essere attivo nella parrocchia e non rimanere ecco come quando era un po' più piccolo quando non c'era un interpreto che in disparte o lontano dalla dalla chiesa perché quello che poi il problema è che poi ecco non arriva la parola a tutti e questo questo queste linee guida insomma questi consigli io lo vedo anche nel mio lavoro e anche se quello che diceva Maria le famiglie eccetera io lavoro proprio con i bambini e e tanti sono anche molto consapevoli della loro difficoltà e quando noi pensiamo vediamo magari un bambino disabile magari non diceva tanto non capisci no no io lo dico loro capiscono tutto e sono molto più sensibili di quello che noi possiamo pensare e vedono tutto e io ho un'esperienza devo dire fortunata nel senso che ecco Luigi ricordava Claudiano e io sono cresciuta in questo ambiente e così anche molto aperto a a tutti ai disabili e non e ringrazio Dio di essere cresciuta così perché mi rendo conto con i nostri figli che frequentano la parrocchia di Luigi o comunque la nostra parrocchia per loro non c'è differenza Francesco fa il primo a 4 anni e mezzo fa il catechismo del buon pastore e nel suo gruppetto c'è un bimbo con sindrome di Down ma è ovviamente non dico il nome vero me lo invento ecco qui c'è scritto Marco prendiamo è Marco non è il bambino che però parla così così che è Marco Marco mamma lo sai che oggi Marco ha fatto un disegno questo è e e questo penso che sia quello che che si vuole riportare ecco io sono contenta e mi dispiace che questi incontri non risuonino ancora di più mi piacerebbe vedere la stanza piena e mi piacerebbe vedere questi libri un po' ovunque ma soprattutto mi piacerebbe vedere chitichetti con sindrome di Down chitichetti con autismo accoliti che ne so anche un po' come c'è da Luigi no e io dico sempre che la Luigi è un po' l'isola felice e sarebbe bello che quest'isola felice si propagasse un po' in tutto l'oceano ecco e niente ecco e questo questo è possibile la cosa che diceva Riccardo ecco scusate molto bella è che siamo in parrocchia e facciamo questo percorso di iniziazione cristiana e a me colpisce sempre la sua esperienza perché lui a volte la dice con semplicità ma io la vivo a parte che va bene vivo tutti i giorni queste difficoltà comunicative in tutti gli ambiti della vita sociale lavorativa spirituale eccetera e il fatto di aver trovato di essersi di essere ritornato in chiesa grazie alla possibilità di avere mi ero messa il timer di avere un perché parliamo troppo di avere un interprete è tanto cioè veramente vuol dire tanto per la vita spirituale di una persona ma anche per quella sociale perché in fondo poi ha iniziato abbiamo vabbè io già c'ero ci sono nata ma lui ha iniziato questo percorso e la cosa che è stupenda è che nella nostra piccola comunità parrocchiale 5, 4, 5 ragazzi poi giovani e quando hanno visto che Riccardo era sordo si sono cominciati a incuriosire di questa cosa e spontaneamente hanno iniziato un corso di lingua di segni e questo cioè io vorrei che non fosse solo una cosa bella oh che carini no ma che dono cioè un dono perché Riccardo può andare in chiesa senza che io debba stare appiccicato a lui tutte le volte perché lui è intanto quello che io eh fidate credetevi eh pensate alle mogli e che anche lui sia libero no per dire cioè anche per esempio io non ci voglio andare oggi ma non ci vado no ci devo andare perché sennò lui non capisce cioè a livello eh sono tutte cose che uno non ci pensa ma invece sono fondamentali anche i bambini si ammalano oppure ecco diceva Riccardo nascono i bambini e sono neonati e io lo devo cullare perché magari lo devo allattare non posso segnare perché ho le mani occupate sapete quante volte prima che questi fratelli cominciano a lui mi diceva segna come faccio i piedi cioè e questo magari ma tu mi devi segnare ho capito non ho le mani cioè non è che posso va bene però questo ci libera proprio tanto nel senso che c'è anche una libertà c'è una serenità come ce l'avete voi di andare di non andare o comunque di andare sapendo che potete ascoltare sapendo che potete ricevere una parola o anche per esempio con Luigi ci insistiamo tantissimo su questi preti che devono conoscere un pochino delle lingue dei segni per confessare perché se no i sordi che peccano come tutti non si possono confessare o peggio ancora gli viene detto vabbè ma te sei sordo grazie a voi grazie a tutte e tre le testimonianze che sono emerse veramente la mattinata diventa sempre più ricca e più bella adesso abbiamo il momento del dibattito ma prima del dibattito vorrei dare un attimo nuovamente la parola su Veronica per un saluto perché poi ci lascerà alle 12 e 10 beh questi ti vogliono vedere ti vogliono salutare se no vai via poi così va bene allora non ci vuole salutare ha deciso ah benissimo allora ringraziamo suor Veronica abita a Roma benissimo allora adesso abbiamo tempo per degli interventi prima di di affidare al nostro vescovo le conclusioni della mattinata vi chiedo la cortesia anche se Don Luigi ha detto che la sala non è per la disabilità però ci sforziamo di venire qui davanti perché stiamo facendo delle riprese quindi abbiamo il microfono sì però venite qui davanti perché con le riprese eh no no è per la ripresa è la questione delle riprese quindi io mi muoverei volentieri ma mi devo preoccupare che non ci sono interventi cioè di solito siete stati chiari sì ma ecco arriva basta rompere il ghiaccio allora buongiorno sono Floriana della parrocchia Santa Maria Adolorata e come sono catechista e per me è importante questo essere catechista perché come si diceva all'inizio quando si è catechista poi si è per sempre catechisti a parte il periodo più o meno lungo in cui si può esserlo e nella vita lavorativa sono anche un insegnante e questa cosa non sempre va bene perché mi pone sempre nella condizione di avere un occhio particolarmente attento alle realtà non solo dei bambini disabili ma anche proprio dei bambini dei ragazzi e delle famiglie è un è un modo di vedere gli altri sempre e ovunque in ogni in ogni situazione volevo dire che mi hanno mi ha colpito una cosa in particolare quella in particolare anche della Santa Messa dove spesso non c'è inclusione perché può succedere che il bambino down o il bambino autistico non verbale può non comprendere quello che sta succedendo in quel momento e tante a me è successo una volta io avevo l'anno fino all'anno scorso ho avuto un bambino iperattivo in classe e in classe in aula e durante l'incontro e questo bambino durante la Santa Messa spesso si addormentava perché non riusciva a comprendere quello che stava succedendo e tante volte veniva rimproverato anche dai catechisti stessi della parrocchia perché disturbava in classe durante la Santa Messa questa cosa mi ha colpito e quindi adesso è una cosa su cui voglio pregarci e voglio un po' rendere testimonianza poi al gruppo dei catechisti e una cosa che voglio dire di bello della mia parrocchia è che noi da anni quest'anno è stato il diciottesimo anno quindi è diventata maggiorenne c'è una realtà del si chiama laboratorio giovani perché proprio un laboratorio si chiama lab in poche parole nel lab tutti i sabbati pomeriggio c'è catechesi per tutte le realtà della disabilità della parrocchia quindi ci possono essere i bambini più piccoli ma ormai ci sono ragazzi che hanno festeggiato i 50 anni che hanno cominciato che erano più piccoli e la cosa bella di questo laboratorio è non solo vedere gli educatori che sono veramente partecipi di questa di questa cosa fanno questa catechesi ai ragazzi ma è una catechesi attiva perché loro trasmettono la parola ma giocano pitturano e voglio rendervi partecipe di un discorso l'anno scorso due anni fa doveva essere presentato il Vangelo della Domenica di Gesù che sale sulla barca e questa ragazza il giorno dopo dopo la Santa Messa mi ferma e mi dice Floriana ma tu lo sai che nel Vangelo c'era la stessa cosa che abbiamo fatto ieri sera al Lab e lì abbiamo capito che è vero che i bambini comprendono tutto i ragazzi comprendono tutto siamo noi che pensiamo tante volte che loro non possano andare avanti e proprio adesso abbiamo pensato che dobbiamo trasformare ancora di più il Lab e quindi il Lab ma anche come il catechismo cioè fare in modo che la parola arrivi sempre e niente di questo devo ringraziare tutti questi incontri che veramente mi hanno toccato in profondità grazie buongiorno sono Don Diego parroco della parrocchia Santugo qui dietro praticamente intanto grazie volevo dire due cose la prima riguarda diciamo la consapevolezza penso anche il numero un po' ci dica l'importanza e la realtà anche di vivere una catechesi un'esperienza di catechesi che sia inclusiva dando anche strumenti e questo sussidio per esempio questo testo sicuramente è di aiuto e questo incontro anche alle catechiste e ai catechisti quindi la proposta è quella di rafforzare un po' questo itinerario gli incontri magari in maniera particolare prendendo spunto anche dai catechisti istituiti insomma magari avere dei referenti che possano aiutare le parrocchie ad accogliere sempre meglio questa possibilità l'altra cosa è più diciamo al momento delle iscrizioni io non so se penso è un problema di tanti molti genitori vediamo che spesso non manifestano la fatica magari di un figlio non so c'è qualche consiglio non so lo vogliamo condividere anche anche per un genitore che vive questo come poter approcciare la cosa rendere il momento dell'iscrizione diciamo più intimo più discreto magari favorisce l'apertura però vedo che questo tante volte è una cosa che si manifesta nel tempo e quindi magari non si riesce a intervenire in maniera efficace di quanto più di quanto si potrebbe insomma grazie buongiorno a tutti mi chiamo Simonetta e sono della parrocchia di San Giustino e sono da 20 anni catechista per i battesimi insieme a mio marito e da circa 16 anni volontaria di un'associazione che si chiama Amici di Simone che organizza attività per i ragazzi disabili e da poco ho ricevuto il mandato per il mistero da catechista e tra i nostri progetti i miei insieme all'altra catechista istituita c'è sicuramente un occhio di riguardo per questi ragazzi così speciali ma diciamo che noi all'interno del catechismo di iniziazione cristiana i ragazzi sono molto sono sicuramente inclusi sia nel cammino della comunione che della crisi ma il problema tra virgolette è per i gruppi giovani dopo il covid siamo riusciti a far ripartire il gruppo giovani sia dei ragazzi chiamiamoli normodotati che dei ragazzi disabili però il rapporto era 30 ragazzi normodotati 15 ragazzi disabili quindi dopo aver incontrato i parroci e i vice parroci della nostra parrocchia c'è stato detto che i ragazzi disabili erano troppi rispetto ai ragazzi normodotati perché l'incontro era unico tutti quanti insieme quindi insomma mentre nel catechismo della comunione e della crisi ma magari capita uno o due massimo ragazzi in ogni piccolo gruppo il gruppo giovani è un gruppo unico quindi per questi due anni i ragazzi hanno camminato separatamente e l'idea era quella di fare degli incontri inclusivi magari non so la via crucis poteva essere la festa di carnevale anche qualcosa di ludico ma poi in realtà non è stato fatto quindi siccome dobbiamo iniziare a camminare per per favorire insomma questa integrazione per arricchire i ragazzi normodotati della bellezza dei ragazzi disabili quindi volevo un consiglio di come poter poter fare insomma tengo a precisare che nei ragazzi normodotati ci sono anche le mie due figlie che sono abituati ovviamente alla disabilità la vivono anche tramite amicizie che abbiamo in comune e quindi però loro mi riportano che in realtà tanti giovani non hanno questa familiarità per cui insomma per creare proprio un momento di incontro da queste due realtà grazie partiamo da quello che diceva che diceva Simonetta adesso la situazione di San Giustino per esempio questa questione che si è creata nel gruppo giovani che essendo un unico gruppo invece che tanti gruppetti come quello delle comunioni c'è stato questo problema questo è il risultato di una carenza sul territorio perché succedono queste cose perché appunto siccome la maggior parte delle parrocchie non sono inclusive allora poi invece quando c'è una parrocchia inclusiva dove c'è un minimo di attenzione di possibilità di cose allora si va tutti là perché lì si trova ciò che tutti cercano quindi purtroppo queste sono situazioni di una fase ancora di non piena consapevolezza di non diffusione giustamente Don Diego diceva dovremmo formarci spingere su questo tema è assolutamente vero quindi è chiaro che per come adesso la situazione queste questioni si pongono in alcune parrocchie poi giustamente loro hanno trovato questa soluzione uno sta là e si cervella come fare le cose al meglio per la cosa ma comunque ti rendi conto che la situazione non è ottimale perché ti perdi qualche cosa però si fa quel che si può loro sono stati bravi a fare quello che hanno potuto fare una cosa volevo dire su quello che ha chiesto Don Diego sulle iscrizioni questo è verissimo è un segnale che arriva da tantissimi il fatto che nelle iscrizioni a volte ti trovi atteggiamenti magari opposti ti trovi qualcuno che arriva molto duro molto che pretende che vuole perché è già stato magari ferito da rifiuti dalla fatica della vita da difficoltà e quindi arriva lì e batte subito i pugni sul tavolo e quindi uno resta un po' così e c'è qualcun altro che fa totalmente finta di niente e tu poi scopri piano piano le cose è vero ed è diciamo questo fa parte della necessità di essere accoglienti e come si diceva prima anche di non cioè di 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 non giudicare i sentimenti le emozioni che gli altri manifestano ma di accoglierle no? anche se uno non le non le condivide in questo senso può essere utile un lavoro di 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 prevenzione di pre informazione no? effettivamente il contesto delle iscrizioni quello proprio classico è un tantino burocratico no? cioè i catechisti stanno là dal che ne so il pomeriggio dalle 4 alle 6 e la gente si mette fuori in fila entri cinque minuti che devi fare no? e invece queste cose richiedono un po' di confidenza un po' di quindi è chiaro che è proprio il contesto che non è ottimale per quella cosa no? l'ideale sarebbe avere un contatto personale all'atere no? e quindi magari se uno però qui c'è una sensibilizzazione complessiva da fare no? cioè se io so che arriva che nella classe di Giacomino che deve fare la catechesi l'anno prossimo c'è anche Francesca che è una bambina con disabilità allora l'ideale sarebbe lavorare con i genitori per non arrivare al momento delle iscrizioni così che mi arriva direttamente la cosa ma fare un contatto a parte perché c'è bisogno di tempo e bisogna rispettare la sensibilità delle persone che magari non è che arrivano e ti dicono ciao allora senti mio figlio così cosa no è difficile da farlo è difficile da fare quindi purtroppo non è che c'è una ricetta però se siamo un po' più attivi noi nel cercare invece di essere puramente passivi nell'aspettare che vengano magari si può gestire diversamente la cosa però è chiaro che tendenzialmente la parrocchia ha un po' una struttura non per la parrocchia di Diego ma dico in generale le parrocchie la parrocchia ha un po' questa struttura noi stiamo qua tu vieni mi chiedi quello che vuoi se posso te lo do mentre invece un po' il discorso generale che stiamo facendo è che l'ideale sarebbe invece andare verso quindi non dire noi stiamo qua e diamo servizi e voi venite a chiedere servizi ma cerchiamo di appunto di creare la comunità e poi l'ultima cosa diceva Floriana della messa che è un po' il punto caldo dell'inclusione perché è il punto caldo dell'inclusione primo perché è centrale nella vita cristiana la celebrazione dell'eucaristia e secondo perché mentre il gruppo di catechesi è un gruppo piccolino in cui ci sono i bambini i catechisti c'è un ambiente molto più controllabile la messa è invece un incontro con tantissime persone con tutta la comunità cristiana diciamo più o meno con quelli che partecipano a quella messa quindi è da un lato più difficile per magari per un bambino con disabilità vivere questo momento è una cosa complessa le persone non sono né controllabili né né magari sensibilizzate sul tema e quindi ci vuole effettivamente molta molta passione però anche qui cioè che cosa si può fare sensibilizzare formare parliamone così mostriamo anzitutto noi mi ricordo sempre Luigi diceva di un ragazzo durante della sua parrocchia che ogni tanto durante durante la messa faceva un grido varie volte durante la cosa e diceva certo all'inizio un po' così poi dopo poi ci siamo tutti abituati non succede niente lo sappiamo che ogni tanto effettivamente è proprio una questione di di familiarità come è stato detto molto bene quindi purtroppo non c'è altro da fare se non lavorare sulla sulla sensibilizzazione sulla sulla comunicazione anche solo sull'informazione che già è tantissimo bene allora se non penso che ci siano altri interventi anche perché siamo a mezzogiorno e siamo ancora una volta rientrati nei tempi stabiliti ecco adesso c'è la parte che a mio avviso è la più rognosa ogni volta le conclusioni perché dopo una bella mattinata chi deve poi tirare le somme deve un po' lavorare di più ma chi ha imparato a conoscere il nostro Vescovo sa che ha questa brillante capacità di fare veramente sintesi e di saper racchiudere in questa sintesi tutto quello che viene detto nei momenti assembleari quindi do subito la parola al nostro Vescovo che ancora una volta ringrazio per la presenza per la disponibilità e soprattutto per quello che vorrà in questo momento condividere con ciascuno di noi grazie Don Enzo perché infatti non sento questo momento come rognoso è vero è vero allora vorrei veramente ringraziare tutti coloro che hanno condiviso tutti i relatori ma anche tutti coloro che veramente hanno portato la loro esperienza e insieme ancora una volta tutta l'equipe dell'Ufficio Catechistico Dio Cesano e poi sì vorrei mettere insieme tutte le suggestioni che ciascuno di voi ha portato a questo convegno a questa mattinata di convegno come dire trovando il filo rosso e favorendo proprio un'integrazione di tutti i passaggi che sono stati portati anzitutto Don Luigi parlava di un necessario cambiamento di mentalità e mi sembra che questo sia un po' il leitmotiv di tutto il percorso che si è fatto nell'approcciare alla relazione fra catechesi e disabilità il cambiamento di mentalità come favorire una partecipazione attiva come includere le persone il tema della partecipazione attiva è stato toccato in particolar modo nella prima parte dell'intervento di Don Andrea quando ci spiegava il va de me come utilizzarlo e ugualmente Don Andrea diceva l'inclusione delle persone con disabilità rende la comunità più inclusiva ecco io personalmente ritengo che si possa trovare una forte analogia fra questo tema del cambiamento di mentalità e il tema dell'analisi della nostra cultura cioè dell'influenza che la nostra cultura ha sui nostri comportamenti sui nostri atteggiamenti e anche sugli obiettivi che diamo alla nostra vita e alla nostra pastorale cerco di essere un po' più specifico e vorrei come dire favorire questo passaggio quando noi ci proponiamo di educarci ad un cambiamento di mentalità assumere una nuova mentalità io sento che questo ha molto a che fare con la nostra cultura cioè più spesso anche su avvenire in questi giorni ci sono diversi articoli che sottolineano la difficoltà per noi cattolici di interagire con la cultura di fare cultura e di capire quale sia l'effettiva influenza della cultura in cui noi siamo inseriti rispetto alla nostra azione e rispetto alla nostra missione ecco io vorrei abbinare questi due termini cambiamento di mentalità con influenza culturale ovvero provare a riflettere insieme a voi esattamente su questo passaggio in che modo questo cambiamento di mentalità che auspichiamo per noi tutti e per le nostre comunità ha a che fare anche con una osservazione attenta dell'influenza culturale in cui tutti noi siamo inseriti e di cui siamo imbevuti allora mi faccio aiutare a mo' di parabola evangelica cioè è come se dovessimo affrontare questo tema indirettamente a mo' di parabola evangelica mi faccio aiutare dalla laudatosi e dalla laudatedeum perché nell'enciclica laudatosi e nell'esortazione apostolica laudatedeum il Papa parla tantissimo dell'impatto culturale su gli stili di vita i disastri ambientali rispetto dell'ambiente e chiaramente i cambiamenti climatici la laudatedeum in particolare allora vorrei utilizzare la parabola della laudatedeum per affrontare il tema del cambiamento di mentalità e dare un piccolo contributo vorrei citare il paragrafo 105 della laudatedeum così scrive il Santo Padre si tende a credere che ogni acquisto di potenza sia semplicemente progresso accrescimento di sicurezza di utilità di benessere di forza vitale di pienezza di valori come se la realtà il bene e la verità sbocciassero spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e dell'economia il fatto è che l'uomo moderno non è stato educato a retto uso della potenza sono delle parole che io trovo molto molto efficaci ed è una citazione che Papa Francesco fa di uno scritto di Romano Guardini inserendolo nel paragrafo 105 l'uomo moderno non è stato educato a retto uso della potenza perché l'immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell'essere umano per quanto riguarda la responsabilità i valori e la coscienza ogni epoca tende a sviluppare una scarsa autocoscienza dei propri limiti ogni epoca tende a sviluppare una scarsa autocoscienza dei propri limiti per tale motivo è possibile che oggi l'umanità non avverta la serietà delle sfide che le si presentano e la possibilità dell'uomo di usare male la sua potenza è in continuo aumento questo accade quando non esistono norme di libertà ma solo pretese necessità di utilità e di sicurezza l'essere umano non è pienamente autonomo la sua libertà si ammala quando si consegna alle forze cieche dell'inconscio dei bisogni immediati dell'egoismo della violenza brutale in tal senso è nudo ed esposto di fronte al suo stesso potere che continua a crescere senza avere gli strumenti per controllarlo ecco perché ho voluto usare la parabola della laudato sì e quasi immaginare come sinonimo l'impatto culturale rispetto al cambiamento di mentalità che tutti auspichiamo perché ritengo che il cambiamento di mentalità sia molto favorito in questo contesto che oggi studiamo e osserviamo da vicino dall'evangelizzazione che noi tutti possiamo ricevere dalle persone con diversa abilità e mi spiego meglio ancora utilizzando la parabola del dei cambiamenti climatici e dell'ecologia integrale io certamente e qui parlo di me cerco di di vivere la raccolta differenziata di non accendere luci quando non servono di non sprecare l'acqua di non essere soggetto a bisogni indotti quindi di non acquistare tutto quando non mi serve perché c'è una certa correlazione fra diciamo così il disastro ambientale e diciamo l'acquisto compulsivo ma ciò che mi ha più aiutato su questo fronte è stata l'esperienza vissuta in missione in Mozambico con qualcuno anche di voi qui presenti cioè ciò che più mi è servito per per essere attento all'ambiente è stato il condividere l'esperienza vitale di persone che vivono in quello che noi consideriamo il terzo mondo vedere come loro utilizzano l'acqua vedere quale minimo accesso hanno all'acqua vedere come possono o se possono utilizzare l'energia elettrica ha fatto sì che io tornando in Italia non fossi più capace di utilizzare questi beni di prima necessità alla maniera dell'uomo occidentale italiano è stato il condividere la loro vita che ha cambiato il mio stile di vita è vero che noi abbiamo delle risorse interne cioè è vero che noi possiamo renderci conto pur rimanendo in questo nostro mondo pur vivendo in questa nostra cultura che possiamo assumere degli stili di vita diversi ma vi assicuro che l'acceleratore che ha fornito alla mia vita l'esperienza vissuta in Mozambico è stato unico su questo fronte per questo dico che il cambiamento di mentalità è e sarà massimamente favorito dal fatto che io non abbia alcun sentimento di pietà verso le persone con diversa disabilità ma che le senta necessarie perché io sia evangelizzato cioè che io senta le persone con diversa abilità fondamentali perché io possa seguire Cristo vivere il Vangelo annunciare la libertà che dal Vangelo proviene come il Papa stesso lo ripete i popoli più poveri sono le prime vittime del disastro ambientale e dei nostri stili di vita occidentali e il Papa correla soprattutto nel Laudate Deum il fenomeno migratorio in massima parte alle condizioni impossibili di vita che si stanno generando in alcuni luoghi del mondo allo stesso tempo avere accanto delle persone con diversa disabilità sarà per noi un dono un dono irrinunciabile la grande possibilità che ho per cambiare la mia mentalità per cambiare il mio stile di vita e per capire che forse sto portando avanti un percorso comunitario ecclesiale parrocchiale e di catechesi con la mentalità dell'uomo e della donna occidentali che non sono educati a retto uso della potenza così la fragilità e passatemi il termine forse un po' duro e forte ma lo sento anche efficace l'impotenza della persona con diversa abilità guarisce il delirio di onnipotenza della persona che io considererei oggettivamente abile in questo modo come dicevo noi abbandoniamo la mentalità pietistica o compassionevole e sentiamo l'urgenza il bisogno di avere con noi persone con disabilità di intraprendere percorsi sinodali in cui io non sono più mosso da compassione ma sono mosso dalla consapevolezza che in questa persona ci sono sguardo mentalità affetti abilità che io non ho e che mi salvano e faccio entrare in una relazione comunitaria esattamente la sua visione del mondo il suo approccio alla vita perché non è come il mio ma è molto più evangelico del mio e fa sentire che lo spirito di Dio è veramente in mezzo a noi questo penso che sia fondamentale cioè questo penso che sia un passaggio su cui tutti possiamo assestarci nel programmare nel vivere la nostra vita comunitaria nell'immaginare i percorsi di catechesi è come se io di mio parto sempre così ma se con me c'è una persona con diversa abilità con cui addirittura programmare la catechesi cioè non è che io adatto la catechesi ma programmo la catechesi allora quella catechesi in anticipo posso essere certo che sia Vangelo proprio perché ciò che quella persona ha provocato in me può cascata diventare stile di vita diverso stile catechetico diverso quando Antonella e Riccardo Elisabetta e Riccardo ci raccontavano diciamo di ciò che la presenza di Riccardo ha provocato nella loro comunità parrocchiale tanto che alcuni ragazzi hanno poi scelto di iniziare il percorso di apprendimento del linguaggio dei segni ecco esattamente questo il tema è questi cinque ragazzi che hanno iniziato il percorso di apprendimento del linguaggio dei segni sono stati o no evangelizzati per primi questa scelta di studiare questo linguaggio è una scelta di solidarietà o è un modo nuovo di vivere la vita e il Vangelo ecco questa è la prospettiva questo è il cambiamento che a mio avviso noi possiamo assumere io immagino penso e credo che questi cinque ragazzi che hanno voluto apprendere il linguaggio dei segni vivano ora in modo diverso la loro vita e una delle espressioni di questo stile di vita così diverso è l'aver appreso il linguaggio dei segni ma è cambiato il loro modo di relazionarsi è cambiato il loro approccio all'esperienza di vita comunitaria parrocchiale grazie ecco ringraziamo ancora il Vescovo un grazie ancora a Fabian per averci aiutato stamattina ecco alcune indicazioni tecniche per continuare il nostro cammino non facciamo diventare il percorso di formazione che abbiamo vissuto in queste settimane ma soprattutto questi momenti assembleari quelli che abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto l'anno scorso vi ricordate da Don Luigi quello che abbiamo vissuto al Don Guanella ma soprattutto questa mattinata vissuta qui alla Salesiana non facciamoli diventare degli eventi ma una prospettiva e una mentalità nuova che deve accompagnare il percorso di vita cristiana all'interno delle nostre realtà adesso abbiamo non dico gli strumenti ma abbiamo più o meno in mano una prospettiva che dobbiamo cercare di costruire insieme se facciamo diventare questi incontri degli eventi abbiamo parlato di tante cose poi ritorneremo a casa e diremo e ora da dove si riparte invece noi dobbiamo continuare a camminare è come quando si apre una porta abbiamo dinanzi a noi un orizzonte se non guardiamo oltre perdiamo l'equilibrio e diciamo adesso cadiamo invece se ci facciamo aiutare se camminiamo insieme questo orizzonte diventa certamente più facile da percorrere l'ufficio è sempre a disposizione come diceva Don Andrea il Vademecum lo troverete sul sito dell'ufficio catechistico sì poi man mano verrà aggiornato in base alle indicazioni non lo abbiamo stampato proprio per questo motivo perché poi ogni indicazione ogni suggerimento che strada facendo viene diventa veramente un luogo di scambio e di confronto adesso è soltanto un primo strumento che viene offerto alle realtà parrocchiali però ecco poi man mano tutti possiamo contribuire anche con delle testimonianze con del materiale che avete a disposizione tante volte sentivamo in questo periodo nella mia parrocchia facciamo così e poi magari la diocesi non lo sa condividetelo con l'ufficio mandate all'ufficio quello che voi vivete fate e così diventa più semplice avendo questo canale ufficiale che è il sito dell'ufficio catechistico per poter veramente trasmettere a tutte le realtà quello che noi viviamo questa mattina solo alcuni aspetti tecnici adesso questa mattina ci sono state le riprese quindi subito dopo Pasqua non nell'immediatezza perché noi poi subito subito dopo Pasqua con tempo troverete sul canale youtube dell'ufficio catechistico anche ciò che abbiamo vissuto questa mattina quindi sarà facilmente preso dal sito della pagina youtube dell'ufficio catechistico proprio per questo ci sono state delle riprese quindi capite bene molti di voi sono molti tutti siamo stati ripresi sia in fotografie perché c'era anche il fotografo di Roma 7 e sia appunto con le riprese quindi non so se adesso non c'è quindi sapete che tante volte non abbiamo fatto firmare una liberatoria ma siamo tutti adulti e quindi sapete che c'è questa cosa così come qualcuno sta chiedendo dopo Pasqua scrivendo all'ufficio potrete avere i link delle registrazioni del percorso che abbiamo vissuto in questa settimana ma dopo Pasqua sì dopo Pasqua non prima cioè se adesso arriva una mail l'ufficio non vi risponderà non perché non vuole rispondere perché dopo con calma noi manderemo un pochino tutto il link così come la registrazione di YouTube il link sarà mandato anche ai vostri parroci due cose al di là del nostro percorso sulla disabilità i vostri parroci hanno già ricevuto una mail penso anche gli istituiti dal 5 all'8 settembre noi vivremo uno stage di formazione ad Assisi anche qui è aperto a tutti i catechisti aperto a tutti i catechisti ma capite bene che già adesso dovete prendere visione della locandina che è stata mandata ai parroci per gli aspetti tecnici perché a differenza di come abbiamo vissuto con i catechisti istituiti non abbiamo tutta questa disponibilità come l'anno scorso siccome questa volta è aperto a tutti i catechisti capite bene dobbiamo cercare di rientrare in alcune indicazioni pratiche quindi prendete visione della locandina e quanto prima chi desidera partecipare mandi una mail anche all'ufficio per dare la propria disponibilità un'ultima cosa nei giorni passati ai vostri parroci e ai ministri è stata richiesta una mappatura per avere sul territorio la conoscenza dei catechisti da anni stiamo cercando di chiedere queste informazioni allora capite bene i parroci tante volte sono oberati da tante cose allora loro hanno ricevuto perché è giusto che abbiano loro questa mappatura ma prendete voi in mano questa situazione un po' ci stanno aiutando i ministri istituiti ma in tutte le parrocchie non ci sono i ministri istituiti e piano piano si stanno anche loro organizzando almeno dal punto di vista di prefettura però voi che siete qui e sapete che il vostro parroco ha ricevuto una mappatura cioè nel senso noi chiediamo nome cognome mail e ambito di catechesi che portano avanti questo perché perché noi vorremmo non sapere i fatti delle parrocchie attenzione non è un controllo ma perché nel momento in cui noi abbiamo le mail dei catechisti come ufficio possiamo raggiungere più facilmente voi e cercare di interagire meglio senza bypassare attenzione mai i sacerdoti i parroci però ecco il catechista deve essere l'anello di congiunzione possiamo dire tra la parrocchia e l'ufficio e quindi questa mappatura ci permetterà poi di interagire direttamente con la mappatura è una raccolta dati che stiamo cercando di fare nome cognome mail e ambito di di che cosa si occupa all'interno della parrocchia come catechesi quindi i sacerdoti hanno già ricevuto questa mappatura voi rivolgetevi ai vostri sacerdoti una cosa vi chiedo non prendete libere iniziative tante volte perché voglio dire poi mandiamo ci ritroviamo allora voi rivolgetevi al par dice possiamo aiutarti in questa situazione possiamo vedere che cosa come riempire questa mappatura e poi nel tempo cerchiamo di raccogliere questi dati grazie e buon proseguimento e buona settimana santa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti